Nell'ambito di una riunione a livello dell'Istituto Super-Sanità è stata avanzata una proposta relativa alla tutela sociale e sanitaria dei cittadini, ma anche e soprattutto dei lavoratori delle varie fasce di interesse, con la proposta di far istituire a livello comunale un centro di consulenza gratuito a cui rivolgersi per qualunque tipo di domanda inerente alle varie applicazioni delle misure di prevenzione in campo sanitario sicuramente, ma anche di tipo sociale, mi riferisco alla riapertura della ristorazione per esempio, ma anche alle attività all'interno delle fabbriche. Ogni attività lavorativa presenta diversi score di rischio calcolabili in base a delle tabelle messe appunto dall'INAI, che a volte risultano essere di difficile interpretazione o di difficile attuazione. Ebbene, un centro di consulenza per questi tipi di domande potrebbe risolvere e dare una mano a tanti cittadini, a tanti lavoratori e tutelarli anche da un punto di vista di eventuale rischio di ricorrere in sanzioni non sempre agevoli poi da pagare per gente che deve ripartire con le attività lavorative in questa fase 2 e poi sarà anche per quanto riguarda la fase 3.